Una Frera 502 cavalli del 1916, una Guzzi Superalce del 43 e una Bianchi MT del 68. Sono questi gioielli a due ruote che spiccano nella collezione dei motocicli in dotazione all'esercito italiano e che quest'anno gli appassionati potranno ammirare alla quinta edizione del Moto Days, il salone moto e scooter del centro-sud Italia che si terrà alla Fiera di Roma fino al 10 marzo. Protagonista assoluta dell'Expo, la moderna Cagiva 350 V12, in dotazione a tutti i reparti dell'esercito italiano. Testata e apprezzata dall'esercito francese come mezzo di collegamento rapido durante la guerra del Golfo, è stata promossa anche ai test britannici di durata e affidabilità. Un vanto per la casa produttrice e per l'esercito italiano che è la scelta proprio, per la sua maneggevolezza, la sua affidabilità meccanica e la capacità di confrontarsi con qualunque tipo di terreno. Le sorprese del Salone di Roma però non finiscono qui. I visitatori avranno infatti anche la possibilità di provare il simulatore di guida dell'esercito e ricevere informazioni sulla guida sicura e sul giusto modo di comportarsi nel traffico quotidiano della città. Un appuntamento a cui gli appassionati di moto non possono davvero mancare. Grazie a tutti.